La fantasidenza del maestro Antonio Santo E allora, Amanda, con tuo aiuto Giriamo il suo glass, mischiamo le carte Prendiamo la prima pallina Attenzione, là apriamo la prima pallina Vediamo la prima prova E allora, io la leggo Bacciata sexy A ruoli invertiti Uno fa la dama E la donna fa il cavaliere Questa è la prima prova E allora ci siamo Ciro Latino Questa è la prima esibizione 3, 2, 1 Facciamo partire la musica Questa è la prima esibizione Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.